Ciao amici rossoneri, ben ritornati in live terzo aprile di Champions League E siamo messi un po' nella merda Andiamo a giocare a Oporto, la squadra non la chiamo più scarsa, la chiamo la meno forte del girone E ragazzi sono preoccupato Tra l'altro oltre al fatto che andiamo là senza Magnanzi, Andrannantesi, senza Vrain Diaz Ci andiamo anche senza che sì perché è squalificato Con quell'espulsione mi permetterete di dire generosa Stasera i cugini giocheranno contro i campioni degli sceriffi Ma quanto cazzo vorrei avere il loro girone ragazzi Olio della Champions ragazzi godetelo perché da tra qualche settimana al prossimo anno Sa che non si sente più Io non ero preoccupato per esempio sabato sera per il Verona La sera sono preoccupato Diciamo che abbiamo avuto abbastanza sfiga eh Per una Champions League ma Dopo a partire dai sorteggi La prima siamo usati Polli Perché di un centimetro non troviamo il gol del 3-1 La seconda espulsione generosa Mancata espulsione per loro, rigore, dubbio Adesso andiamo là, già partiamo che siamo più che decimati Però il campionato sta girando bene Però non è abbastanza, non è sufficiente ragazzi E Pepe sarà un bel crostino da pupparsi stasera Stasera ragazzi io non credo ma c'è da vincere Ha fischiato Buona partita Perché Calabria è così alto ragazzi? Luis Dias no Non c'è fallo, grande, grande Grande Benazer, grande Benazer davvero Eh qua invece l'hai fatto tu E ti becchi il giallo Eh Sergio Oliveira Uh palo del porto ragazzi Luis Dias ma Così regato il pallone, no 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 raga no Sinistro fuori Palo del porto Altro qua, questo palo è stato un culo della madonna Perché si ribalzava nella schienetta da Rosano Se non ci andava in porta per forza d'inerzia E ci andava in porta perché qualcuno lì ci andava a ribattere Assolutamente, la tappava po' di culo Bella questa palla per se le makers Sfruttala, sfruttala, sfruttala Leao, c'è Ballo Tourette Bello Che cazzo di cross hai fatto Leao Madonna raga A volte è devastante ma a volte fa ste cagate Ah Leao Come non è fallo Ballo Tourette Ballo Tourette Ballo Tourette Calabria che palone che ha sbagliato Calabria che palone che ha sbagliato Giocate semplici ragazzi Perché giocate nello stretto? Sti qua ti chiudono Ballo Tourette dentro Krunic Che cazzo provate da la Giroud Ma tira no? Poi magari non lo fai ma tira Bello sale le makers perché la prima è ma si allenti Si allenti ragazzi No sale le makers Ragazzi qua non pressing stissiante Tiro l'arco di Medin Raga in tre addosso Cioè sono impressionanti In tre addosso un uomo Bello Leao Bel dribbling Bel dribbling Vai dentro Verso Giroud Ma che sponda fai? Ma colpisci verso la porta Nel momento in cui ci vuole qualità E si pecca Cominci bella per Giroud Stop male Scivola addirittura raga E fa pure fallo Dammonito Giroud Ma che cazzo succede? Comunque due volte Potevamo concludere tranquillamente Beatamente in porta Non l'abbiamo fatto ragazzi Leao si cerca di servire Ballo Tourette Raga ma lo sai che è una palla Veramente buttata al cazzo Se cerchi di servire lui No Tu muori che stop Gol Grande Chi Era in scivolata No No raga No 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 Ballo Tourette lo punta Cioè Ballo Tourette prova a far fallo E finisce per terra Lui c'è fantastico Allora dentro Copri testa fuori Taremi No 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 Destro Dio mio Ma e di Gli va Va cerchiato capito Giroud No Perché fai la sponda Gio Mario Dentro Bravo tonight No rimane lì Cross Glovesciata Alla fora Altro rinvio ragazzi Ma da puttane Cioè il rinvio è sempre Tataruzanu Baluzure Porto Sempre Cioè è già 3-4 volte che è così Sta veramente dando i nervi Però c'è È anche assurdo che loro sbagliano al centrocampo Hanno tempo di rimediare Noi come sbagliamo al centrocampo È già successo 3-4 volte anche quello Sono già lì a romperti i coglioni No Krunic Che palla di merda Che hai perso Tonali non fare minchiate Track Fatto E vabbè intanto non andiamo a trovare fallo Ma dalla via prima No non esiste Non esiste No Un altro del bling fallito ragazzi Cioè è incredibile Bello sale makers Perché l'allunghi Va bene Ah se hai guardato il fallo qua Lo ammonisci Lo ammonisci Cioè ma È netto sto giallo dai Però noi ragazzi siamo netto dei polli Cioè non sfruttiamo una ripartenza Una palla Nulla Notavio destro Fuori Comunque qua È uno stronzo Vendele Chi cazzo è È rientrato 20 metri avanti Sale makers Va il cross Giru Ah a meno che altri non porta Ragazzi dai Io non so qua Se mettendo il suo primo palo Io suppongo poi eh Non è detto che succeda no Indurano tolto la palla Olivera Leao Benasera Ce l'abbiamo fatta La palla ce l'abbiamo ancora noi Leao Dentro Giru No Rovesciata fuori gioco Ma Che palla di Ok rovesciata di Giru Cioè Fantascienza Vabbè sì fuori gioco di un metro e mezzo eh Per carità di Dio però No Tonali Ma che palla Perché mi ha dato rimesso laterale Ma tanto Tarusano Non lo fa neanche battere Primo tempo finito Vabbè almeno non si è preso colpe ora Sta per iniziare il secondo tempo Ci sono ancora Romagnoli Baccaiocco in panchina Ed è bene così Soprattutto per il secondo Che poi ragazzi Voglio benissimo Baccaiocco Cioè io lo adoro Però si deve giocare Come ho giocato quei 10 minuti con la Lazio ragazzi E no eh Allora Se vogliamo fare un cambio E lo volevo già dire Tipo dopo 25 minuti Però sono stato zitto Ho aspettato il proseguo della partita E sinceramente ne sono ancora più convinto di prima Togliere Krunic E mettere Ibra Eh Impacciatissimo Giru ragazzi L'uomo Giru non lo salta Perché non si è andato Balloturetta a recuperare quel pallone Volante Balloturetta Bella accelerazione Va il cross Sì Bello Cioè avete presente Quando giocate a FIFA A me è rimasto premuto Esattamente quello No Tomori Gol Gol del porto Taremi sinistro Fuori di nulla Ragazzi Tomori sta giocando malissimo Sta giocando veramente male Se le makers Va il cross Verso Krunic Eh L'interessante L'interessante Ammetto che è interessante Balloturetta Si va a prendere il fallo Bene Ibra Bacca Io con i Romagnoli Ho l'impressione che Romagnoli Se entra entra per forza Per Tomori Tonali non può tirare da 25-30 metri Non puoi Ecco L'ha fatto Di lì ci faceva go a Roberto Carlos Non ti fa prendere da strane idee No Balloturetta Cioè Ha sbagliato il passaggio Con il porto Non so chi fosse La stava riconsegnando a Tonali Balloturetta È natale a far fallo Si bro E siamo al cinquantesimo L'Atletico Madrid Con Liverpool Ci ha pareggiato Al trentacinquesimo Nel primo tempo Bona No Luis Dias Wendel Meta No Tomo Mamma mia Tomo Monica salvato Cosa ha perso Balloturetta Un'altra volta ragazzi Sto qua non è affidabile Sto qua non è affidabile Ehi Rimesa Trale dritto per dritto Aveva tutto il tempo Per intercettarla C'è arrivato in ritardo Sto qua L'ha spostato la palla Da calciare Raga No 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 Non va assolutamente bene così Cioè Sto qua non è affidabile E Balloturetta Non la prende Ha dato la rimesa Per il porto ragazzi Stiamo giocando in dieci Lì sulla sinistra Lunic No Lunic Passala Ed è qua Che adesso Noi andiamo sotto Noi andiamo sotto qua Troppi eroi in fase di impostazione Troppi eroi in fase di disimpegno Troppi eroi dappertutto Troppi eroi dappertutto Ragazzi L'ho detto raga Togliere i cruni Ci mette l'Ibra Tomori Balloturetta Crossman No Che buco Mettila via Uribe destro Fuori di nulla E raga E qui è fallo però Cioè nel senso Calulu Togli Balloturetta Togli Balloturetta Io non toglierei Giru ragazzi Non lo toglierei È l'unico che ha tirato un porta Anzi Che ha tirato un porta E che non ha tirato un porta Mettiamo i puntini su lei Fuori Balloturetta Dentro Calulu Vabbè Non è che sta entrando Ternandez Però Romagnoli per Tomori No ragazzi Ma Romagnoli per Tomori No Ma mai raga Mai E Ibra per Giru No ragazzi No 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 Non mi sono piaciuti sti cambi Ibra Vuoi calciare in porta Da 40 metri Che cazzo Che se calci di lì Capace anche ti rompi No io non ci voglio credere Ma davvero Ma anche tu Stai cercando il tiro a giro Da lì Che cazzo Il tiro a giro vuoi fare Cioè spiegamelo Perché non Veramente non ho capito Già Mario Uh Guarda lì Gol del porto Ragazzi Eeeh Eeeh Picchia 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 Arriva Non c'è nessun fallo Su Benazer Non c'è nessun fallo Su Benazer Non andiamo a sparare Cazzate Benazer viene effettivamente Buttatocio ma questo gol non va preso Cioè io se danno gol Va bene Va bene se danno gol Va bene Perché siamo dei polli Perché Baccaio Coppertonali Ma Togli Kronic Fala dentro Pepe Mamma mia Ragazzi l'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto che non Che i cambi sono stati sbagliati Ma piuttosto che cambiare modulo Si sparerebbe in una gamba Pioli E quindi Poi A rivederlo il fallo c'è su Benazer C'è Perché c'è Ma non è una scusante ragazzi Non è una scusante Tu non puoi In 68 minuti aver fatto un tiro in porta solo col porto Vai Baccaio Coppertonali Che ha aggregato il pallone al centrocampo Ma perché certi giocatori giocano Kronic Ibra Ibra Ma no Cinque gol subiti in tre partite Leao Si è troppo lunga Fuori gioco Ibra Romagnoli E siamo lenti Siamo lenti In due sulla palla Se la fanno portare via Quanto mi dà fastidio Quando vedo ste cose ragazzi Mamma mia Cronici e Baccaio Coppertonali Sono inguardabili al centrocampo C'è Hanno veramente L'efficienza Di Montari E De Sien C'è Siamo veramente a quei livelli lì Ragazzi Il centrocampo È stato Spaventoso C'è Ci rendiamo conto Che Leao è in campo È tipo 20 minuti Non tocca palla Mi sto a scoglionare Ecco facciamo il 4-4-2 All'ottantaduesimo Quando la partita è persa Perché Giocando così Ragazzi la partita È sta persa Ed è un miracolo Se ne abbiamo preso uno solo È veramente un miracolo Cinque Inutili Minuti Di recupero C'è Occasioni 19 a 3 Per il porto C'è È inaccettabile Grappia va al cross Verso Ibra Leao Niente Calabria Non tirare Non tirare Ah dice il telefonista Milan nel secondo tempo Poco poco Ah perché nel primo Vabbè basta ragazzi Ho da fare il video